Un nuovo look per Paola Barale. L'ex Valletta ha scelto un look rock e un parrucchiere indiano per dare una sforbiciata ai capelli Paola Barale torna a far parlare di sé. La showgirl è sempre molto attiva sui social, dove è molto seguita, infatti quotidianamente pubblica foto, video ed altri contenuti di vario genere Ed è proprio con il suo ultimo video su Instagram che Paola Barale ha fatto letteralmente il giro del web Il nuovo taglio di Paola Barale.Paola Barale è certamente uno dei personaggi più seguiti del momento La showgirl infatti è molto seguita, soprattutto sui social, dove ogni giorno pubblica foto ed altri contenuti che non mancano mai di sorprendere i fan e i followers Ed è proprio con il suo ultimo video su Instagram che Paola Barale ha fatto letteralmente giro del web Nel video in questione, la Barale ha voluto condividere con i fan un momento molto particolare. Il suo taglio di capelli Infatti nel video in questione vediamo la showgirl regarsi da un noto parrucchiere indiano e chiedere un taglio che alcuni definirebbero estremo La Barale ha infatti chiesto di rasare completamente a forma di V tutta la parte posteriore dei suoi capelli I commenti dei fan. Subito il video di Paola Barale ha fatto il giro del web. In pochi minuti infatti il post ha ottenuto centinaia di ilx e commenti Commenti che per la maggior parte si sono rivelati tutti positivi e di apprezzamento La Barale è infatti stata lodata dai suoi followers sia per il coraggio nella scelta di un taglio del genere, ma anche e soprattutto per il risultato finale Non sono poi mancati anche commenti di apprezzamento verso il parrucchiere, autore del taglio a Paola Barale, definito da alcuni un vero artista Insomma, le è andata bene tutto sommato nonostante non sia propriamente un parrucchiere d'elite Insomma, le è andata bene tutto